Stefano Scappini, autore di un grande gol domenica che ha suonato un po' la carica alla rimonta della Cremonese, come è andata e come puoi raccontare il tuo gol? Direi che è stato un bel gol di testa, ne è valsa un buon pareggio, potevamo vincerla a partita, se non sbagliavo quel gol alla fine, però potevamo anche perderla, quindi siamo soddisfatti. Deve essere un punto di partenza, sia a livello personale che a livello di squadra, perché innanzitutto bisogna pensare positivo perché non perdiamo la quattro partite, e quindi già da sabato bisogna fare la partita con tranquillità e serenità e cercare di vincere. Scappini che parte dalla panchina, quest'anno è capitato alcune volte, chiaramente è capitata la stessa cosa anche nella passata stagione, però da tutti è riconosciuto un bomber di razza, praticamente l'attaccante in più, addirittura il giocatore in più di questa squadra. Ma guarda, il nostro lavoro, sia giochi titolari che giochi che entri dalla panchina, bisogna farsi trovare sempre pronti penso, è inutile starci a lamentare, bisogna impegnarci sempre negli allenamenti, come lo stanno facendo tutti, anche quelli che giocano di meno. Siamo un gruppo sano, un grande gruppo e ci sarà spazio per tutti perché il campionato è lunghissimo. Speriamo di avere più spazio e di fare più gol. Infine, una soddisfazione personale tua, credo, il primo gol in Serie B che sicuramente sarà il primo di una lunga serie. Ma guarda, lo spero, lo spero ovviamente. Ripeto, deve essere un punto di partenza, sia a livello personale che di squadra, perché ancora non si è fatto niente, quindi è ancora molto lunga. Che cosa ti hanno detto i tuoi compagni a fine partita negli spogliatoi e in questi giorni di ripresa dell'attività? No, niente, dai, perché più, sì, mi hanno fatto i complimenti del bel gol che ho fatto, però bisogna pensare alla squadra perché ne veniamo da quattro pareggi, bisogna tornare più presto alla vittoria, quindi già siamo concentrati alla partita successiva. Un'ultimissima cosa, Scappini, che in questi due anni quasi ormai è riuscito a ritagliarsi anche un ruolo particolare nel cuore della gente e con la stima di tutti i tifosi. Ma guarda, io qui a Cremona sono un anno e mezzo che sto qui e sto molto bene e mi sono trovato come se fossi a casa, quindi è una piazza prestigiosa e dopo la cavalcata gloriosa dell'anno scorso che è finita con la vittoria del campionato e speriamo di ripeterci quest'anno, sarà molto difficile, però con l'aiuto di questo pubblico fantastico faremo un gran campionato secondo me. Grazie.